Il momento di sbaglio per questo è in un periodo veramente non proprio felice. Quindi questo volevo dire, l'ho detto alla fine dello spettacolo, in modo che, insomma, da rivolgere un pensiero a chi, in questo momento, sta sbagliando. E volevo dire una cosa, Donoresi, che mi ha detto tutto in vera. Volevo dire il mio obiettivo, che fu scritto da un cantoautore tanti anni fa. I russi, gli americani, non mi vedo mai, fino a domani. Sarà stato forse un tuo, non di meraviglia, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani. Grazie, grazie amici santi, grazie amici che avete scelto la sotterra con le vostre vacanze. So che ci sono tanti turisti da Fondantania questa sera qua. Grazie a tutti gli amici che ci sono tutti domani, e grazie ancora i genitori di Fondantania, Giorgione, Giardina, e poi là! Sanotti! Senti, vittinati, qualcuno di qui! Signori, il maestro Tremonesi! I rossi auguri di Cercocci! Sei! Senti, vittinati, con il paese togliere di queste persone di Pagliez. alla prossima! Senti, vittinati, vittinati, tutti i genitori di Fondantania, sono tutti i genitori di Fondantania, Cercocci! Cercocci! Assessate! Se volete di raccomodare il corso di Pagliez. sono andato con la base poi come va? anche due, grazie allora ci siamo ci siamo facciamo di più allora il sonore detto questa notte mette già paura sarà di garza bella come una stella sarà di un linea tua ma non fermarti voglio ancora marciare i tuoi occhi come un tanto inverno e tutto il mondo sembra un tanto inverno sta cadendo a un paese come un tempo in seguito e che io mi bambini che in perna mi bambini che in perna il sonore il silenzio tra le loro è il solore che si arriva in la luna si la luna ma non è per la morte è questa luna è una soldata 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 mettendoci di fuoco più su guida tutti solo stanco più su in mezza raggio batto il cuore più su sono sicuro che c'è il sole ma il sole è un cappello di ancio su questo sole è una cadena di ferro senza amore 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 per la carriera di questo posto meraviglioso ma noi siamo stati i primi siamo stati i primi grazie ciao 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 ciao